Abbiamo voluto anche lanciare una sfida ancora più forte e cioè abbiamo voluto aumentare anche le risorse che avevamo investito nel primo accordo, rilanciando maggiormente queste attività e ampliando nelle linee guida una serie di azioni che si riferiscono proprio al coinvolgimento attivo delle persone, in particolare della terza età, ma non soltanto, attraverso un sostegno leggero, attraverso il coinvolgimento per esempio in azioni che nei diversi territori vengono lette anche come esigenze e quindi il coinvolgimento attivo nella gestione di spazi verdi, nella gestione anche di attività come quello è l'accompagnamento scolastico, in altre città per esempio c'è l'esperienza del pedibus che è una sorta di autobus umano, quindi a piedi, che prevede la presenza di un autista e di un controllore che accompagna i bambini a scuola, ma anche il passaggio e la trasmissione di esperienze come vecchi mestieri, la conoscenza, anche la trasmissione di tradizioni che ci appartengono e che purtroppo nell'isolamento spesso vengono un po' perse. Noi dobbiamo riuscire a rispondere a una necessità di benessere delle persone, che significa mantenere quanto più alto possibile il livello anche di autonomia e di autosufficienza. Due anni fa sono state attivate dal Comune di Napoli, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, le agenzie di cittadinanza, una per ogni municipalità, per creare coesione sociale e sostenere la partecipazione, la cooperazione, le esperienze di mutuo aiuto e forme di aiuto leggero a fasce sociali a rischio. Oggi, in una giornata di studio a Palazzo San Giacomo, sono stati presentati gli esiti della sperimentazione e si sono tracciate le linee guida per il futuro, che saranno incentrate sull'assistenza alle persone anziane non autosufficienti, sulla valorizzazione dell'invecchiamento attivo attraverso la cultura, l'impegno civile, la trasmissione intergenerazionale di competenze e mestieri, la promozione di luoghi di aggregazione spontanea e la promozione della cittadinanza attiva, con gruppi di quartiere, di auto mutuo aiuto e della banca del tempo. I risultati sinora sono stati molto positivi, tanto è vero che nelle prossime ore approveremo una delibera che va a implementare questa collaborazione forte tra il Comune, le reti di imprese di comunità, le associazioni di volontariato, il CSV, questo a sostegno delle persone soprattutto anziane e dell'utilizzo delle persone non più giovani in tante attività utili per la città, nelle aree a verde, nei luoghi della cultura, nella vicinanza alle persone che soffrono, alle scuole, con risorse economiche, con ottimizzazione del capitale umano e con un'organizzazione molto positiva che sta avendo una ricaduta molto efficace sul territorio. Grazie. Grazie.